Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta al vino. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, vino rosso, zucchero, cacao amaro, burro, cioccolato fondente, uova, lievito per dolci, vanillina e sale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato. Lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Mettiamolo da parte, senza lavare il boccale. Mettiamo lo zucchero, il burro, il vino, il cacao, il pizzico di sale ed azioniamo il bimbi per 7 minuti, 90 gradi, velocità 2. mettere da parte i 150 grammi di questa crema. Lasciamo intiepidire il resto del composto nel boccale. Trascorso il tempo, il composto si è raffreddato, adesso aggiungeremo la farina, le uova, il lievito e la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Aggiungiamo il cioccolato tritato ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 2. Il composto è pronto, versiamolo in uno stampo da 24 cm ben impurrato. Cuocere in forno a preriscaldato statico a 160 gradi per 30-40 minuti circa. Fate la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Una volta sformata, decoriamola con la salsa. Torta al vino. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!